Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il TG News 24 edizione delle ore 12. Andiamo subito a vedere l'agenzia ANSA, le ultime notizie che arrivano dal portale dell'ANSA dove si parla dei colloqui che i sindacati hanno avuto con il governo e poi delle successive proteste per quanto riguarda la situazione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati per i quali i sindacati chiedono 8 miliardi da mettere a disposizione di queste categorie i lavoratori dipendenti e pensionati per abbattere la tassazione, quindi il cosiddetto cuneo fiscale. È il momento di fare questa scelta vista la crescita dei prezzi, lo chiedono al governo i segretari di CGL e CIS. Ricordiamo che ci sono stati degli incontri con Draghi che ha aperto ai sindacati per parlare anche della riforma delle pensioni e adesso quindi visto che l'inflazione sta schizzando su i sindacati chiedono di fare uno sforzo, un passo avanti e mettere a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati una somma di 8 miliardi da stanziare per poter abbattere la tassazione fiscale sul costo del lavoro ed anche sulla pensione. Poi ci sono altre notizie come potete vedere qui verso il nuovo Green Pass fa discutere il modello Austria che ha deciso di stabilire un lockdown per tutti per 20 giorni poi si vedrà e soprattutto l'obbligo vaccinale per tutti indistintamente a partire dal mese di febbraio. Ma adesso ci occupiamo di altro, andiamo a vedere quello che succede in casa nostra con le percentuali di occupazione negli ospedali che come sapete purtroppo nella nostra regione sia le terapie intensive che l'area non critica hanno raggiunto il livello per cui si andrà in giallo a partire dalla settimana del 29 di novembre. Il prossimo monitoraggio, quello della prossima settimana prenderà in esame i dati di questa settimana che stiamo per lasciarci alle spalle e dunque il Friuli Venezia Giulia è destinato a passare in colore giallo a meno che non intervengano nuovi provvedimenti e nuove disposizioni. Per quanto riguarda però addirittura il rischio di un superamento dei livelli per la zona arancione che sono quelli che vedete qui, guardate vedete qui abbiamo il 20% di intensiva e il 30% di occupazione in area non critica conduce al colore arancione. Quanto è reale questo rischio? Intanto vi facciamo vedere un'altra cosa poi andiamo avanti. Il Friuli Venezia Giulia in questo momento ha una incidenza ogni 100.000 abitanti di nuovi contagi di 209,5 quindi il dato di questa settimana chiaramente la prossima e probabilmente anche la successiva non riuscirà a scendere al di sotto dei 150 casi che è il limite come potete vedere indicato anche qui. Oltre i 50 casi ogni 100.000 abitanti si va in giallo, oltre i 150 che abbiamo abbondantemente superato si va in arancione ma i dati devono essere tutti insieme superati per fortuna direi per passare in arancione. Andiamo a vedere qual è la situazione per quanto riguarda l'atto per scontato che la prossima settimana non si andrà certamente al di sotto dei 150, speriamo e poi tutto può succedere, speriamo che crollino drasticamente i contagi. Andiamo a vedere però per quanto riguarda gli ospedali qual è la situazione e quali sono i limiti da non superare per finire in zona arancione e possiamo dire che ci tengono al riparo da questa ipotesi al momento soprattutto i ricoveri ordinari. Perché? Perché i ricoveri ordinari e anche le terapie intensive che viaggiano stanno crescendo ma di poche unità al giorno. Invece i reparti ordinari hanno subito un'impennata molto più drastica come potete vedere proprio dalla la composizione delle due curve che sono quella rossa che sta a indicare i ricoveri ordinari, la progressione dei ricoveri ordinari e invece quella blu che indica la progressione delle terapie intensive. Le due strisce, quella gialla e quella arancione, altro non sono che i limiti da non superare. Come vedete in questo caso siamo in zona gialla a partire senz'altro dal 29 di novembre, salvo nuovi provvedimenti e nuove decisioni, nuovi accordi tra i governatori e il governo. Siamo in zona gialla perché sia il numero delle terapie intensive che quello dei ricoveri ordinari ha superato la linea gialla che vedete sia in basso che in alto. 18 terapie intensive occupate segnalano, segnano lo scavallamento della linea gialla tra i 17 e i 18, considerando che abbiamo 175 posti di terapia intensiva attivi nella nostra regione e il 15% è quella soglia lì, per arrivare al 20% che è la soglia successiva bisognerebbe superare le 35, non bisogna arrivare a 35 terapie intensive occupate e come vedete siamo al di sotto con 25, l'ultimo dato è quello di ieri, vedremo quello di oggi, comunque è un dato che si mantiene molto più stabile di quello dei ricoveri ordinari, tuttavia bisogna tenerlo monitorato ovviamente ed è quello che si fa quotidianamente. Poi la soglia dei 192 posti in ricoveri ordinari è stata superata come sapete proprio il giorno successivo a quello in cui erano presi in esame i dati per passare in zona gialla la prossima settimana, quindi il rischio c'è stato per un posto letto libero, la nostra regione ha evitato di andare in giallo a partire da lunedì, da questo lunedì, non da quello del 29 di novembre. Per arrivare a superare la soglia arancione c'è un margine abbastanza importante perché 384 in base ai 1280 posti letto che abbiamo di questa tipologia nella nostra regione, 384 posti occupati per il Covid significano il 30% dei 1280 posti letto della nostra regione, per cui in questo caso se si arriva a 35 intensive, 384 in reparti area non critica, più l'incidenza che non deve essere superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti ed ora siamo a 209,5 come abbiamo visto poco fa, tutto questo può condurre la nostra regione all'arancione. Abbiamo fatto un calcolo abbastanza approssimativo soprattutto sul parametro dei ricoveri in area non critica in base alla media di progressione dal inizio di novembre ad oggi, entro un mese se la progressione dovesse essere confermata arriveremo in zona arancione. Tuttavia non c'è in questo momento un allarme imminente la speranza è che in questo periodo si vada avanti con le vaccinazioni, con le terze dosi, con le vaccinazioni che si rispettino, quelli che sono i parametri da rispettare, i comportamenti da rispettare in relazione al green pass, al distanziamento, ad indossare la mascherina, l'igiene delle mani, il distanziamento che deve essere particolarmente, bisogna fare particolarmente attenzione, soprattutto passeremo in zona gialla dunque se siamo arrivati in giallo un motivo ci sarà, bisognerà fare attenzione per provare a far scendere questi parametri, questi dati, questi numeri e scongiurare il rischio di una zona arancione che capiterebbe proprio nel bel mezzo delle festività natalizie, cosa che noi naturalmente ci auguriamo non avvenga. Andiamo avanti adesso, andiamo ad ascoltare proprio il direttore generale dell'Istituto Superiore della Sanità Gianni Rezza che ha fatto come al solito il punto sull'andamento dei dati della settimana che hanno generato per il flui Venezia Giura fortunatamente ancora il provvedimento di zona bianca non si fa a marcenito adesso ma si farà al 99,9% periodico da lunedì 29 novembre. Sentiamo Gianni Rezza. La parola al professor Rezza. Molto brevemente, sembra che i dati parlino abbastanza chiaro, abbiamo una tendenza all'aumento dell'incidenza e una tendenza sia pure graduale e lenta all'incremento del tasso di occupazione dei posti di area medica e terapia intensiva. Senza fare alcun allarmismo perché non mi sembra il caso, però chiaramente è una situazione che dal punto di vista dell'evoluzione nel quadro epidemiologico ci mostra quindi una tendenza a un certo peggioramento. Anche se, come si diceva prima, come diceva il professor Brusaferro, stiamo ben al di sotto dei valori che attualmente si registrano in altri paesi dell'Europa centrale e dell'Europa orientale in particolare. Questa è la situazione dell'andamento per quanto riguarda l'Istituto Superiore della Sanità, la conferenza stampa dopo i dati del monitoraggio. Andiamo subito sull'ANSA perché c'è una notizia che arriva ancora dall'Istituto Superiore della Sanità che riferisce delle percentuali di perdita di efficacia della protezione del vaccino per chi ha superato i sei mesi dalla seconda dose o nel caso di Johnson & Johnson dalla dose unica per cui si sta pensando di ridurre a cinque il periodo di tempo tra l'ultima dose e la terza dose, il booster, dopo il quale, quindi cinque mesi oltre i quali si può fare la prenotazione e si può accedere alla terza dose. Per ora siamo a sei mesi e da lunedì in questa regione scatterà la possibilità di poter prenotare la terza dose e dunque terza dose per gli over 40 possibile prenotarla dal primo di lunedì e il limite in questo caso possono iniziare a prenotarsi quelli che hanno fatto la seconda dose non oltre il 30 aprile del 2021. Come vedete il calo c'è sulla protezione, cosa significa? Se c'è stato un calo abbastanza importante sulla capacità del vaccino di impedire il contagio, il calo dal 95% è sceso all'82% che è comunque una percentuale molto alta di protezione che evita, come dicevamo e come abbiamo sempre detto, il ricovero ospedaliero nei reparti ordinari, peggio in quelli terapia intensiva con la respirazione assistita e peggio ancora purtroppo, e capita ancora, lo stiamo vedendo in questi giorni, chi non ce la fa e muore a causa del Covid-19. La protezione cala sì dal 95 all'82, ma con il booster, con la terza dose, con il richiamo, chiamatelo come volete, la protezione sale di nuovo a livelli importanti. Adesso andiamo a sentire una dichiarazione del professor Matteo Bassetti, rilasciata alla 7 durante un talk show, dichiarazione abbastanza dura di Bassetti contro chi non vuole vaccinarsi, ha parlato anche dell'opportunità o meno di avviare anche in Italia la vaccinazione obbligatoria come ha fatto l'Austria. Sentiamolo. Per favore, il governo si sbrigasse a prendere delle misure che contengono questa nuova ondata. Poi sulla specifica dello strumento con cui intervenire, Bassetti può pensare che sia utile fare provvedimenti solo per i vaccinati o solo per i non vaccinati, questo credo anch'io, come dice Senaldi, che sia un'obbligo. No, ma forse per me, poi vi devo salutare, forse per me, obbligo oggi pomeriggio per tutti, esatto, esatto. Andando a prendere a casa le persone, ma io purtroppo dico il parere medico, per me non ci sarebbe, guardi, a un infettivologo che ha passato la storia del vaiolo, della poliomielite, l'ho studiata sui libri, dove il vaccino è stato obbligatorio e nessuno ha fiatato, per me sarebbe da domani per tutti, andando a prenderli addirittura a casa, ma mi rendo conto che politicamente non è possibile. Quindi, vede, io le dico l'aspetto medico, obbligo domani per tutti. Obbligo per tutti domani, andrei a prenderli a casa. Ha detto Bassetti, in Austria hanno cominciato a pensarci, obbligo per tutti, a partire da febbraio la sensazione è che adesso sperano che con il lockdown, con le terze dosi e con, si spera, l'abbassamento dei parametri di allarme, gli austriaci possono evitare poi l'obbligo vaccinale, ma da febbraio, se le cose non dovesse andare così, quindi dopo le feste, dal primo febbraio, obbligo di vaccinazione per tutti, unito a quelle che sono le altre misure che l'Austria ha già preso e che vanno nella direzione di punire, tra molte virgolette, soprattutto chi non si vaccina, anche se poi è stato stabilito un lockdown generalizzato di 20 giorni per tutti, vaccinati e non. Andiamo a vedere invece adesso un servizio realizzato da Francesca Santoro sui dati che arrivano, le tante analisi che si fanno, una riguarda le conseguenze del Covid sul lavoro, sul lavoro dipendente in particolare. Sentiamo. La pandemia ha avuto un effetto pesante sul lavoro dipendente nel privato. La media di occupati ha registrato infatti un calo di 12.000 unità in Friuli Venezia Giulia nel 2020. Dopo un quinquennio di crescita, gli occupati sono scesi a 291.334, con una riduzione del 4% rispetto all'anno precedente, a fronte comunque del meno 5,7 nazionale. A rilevarlo il ricercatore dell'IRS FVG Alessandro Russo, che ha rielaborato dati IMSS. In particolare tra aprile e maggio 2020 si è verificato un crollo del numero di lavoratori retribuiti dalle aziende private della regione, pari a quasi 43.000 unità in meno, ovvero il meno 14,6% in un solo mese. La flessione misurata in termini di giornate retribuite dalle imprese è stata ancora più marcata, pari complessivamente almeno 8,5%. A livello territoriale è la provincia di Gorizia quella che presenta la contrazione maggiore, corrispondente al 10% in meno, di giornate retribuite. Nei mesi successivi si è registrato un progressivo recupero, che ha riportato l'occupazione più vicina ai livelli dell'anno precedente. I settori che hanno sofferto di più nel 2020 sono stati il commercio, gli alberghi e i ristoranti, a lungo gravati dalle pesanti restrizioni introdotte per contrastare l'epidemia, ambiti in cui sono particolarmente diffusi per altri contratti stagionali a tempo determinato. Le conseguenze negative della pandemia sono state inoltre più evidenti per la componente femminile e per i rapporti di lavoro a tempo parziale, molto utilizzati in attività commerciali e turistiche. La contrazione è stata molto rilevante per gli under 30, più frequentemente impiegati in occupazioni precarie. Uno dei pochi comparti che ha registrato un aumento dell'occupazione e delle giornate retribuite dalle imprese è stato quello dell'assistenza sociale e residenziale, che comprende le case di riposo per persone anziane. Si cominciano a fare i conti per quanto riguarda gli acquisti natalizi, soprattutto quanti soldi avranno a disposizione gli italiani e quanto l'eraurio, il fisco, riuscirà ad incamerare dai consumi, arriveranno le tredicesime. Si spera che una parte, gli italiani possano spenderla e destinarla proprio ai consumi, ai regali e non soltanto a pagare le bollette ed altri costi fissi in aumento della gestione familiare. La CGA di Mestre ha fatto uno studio, un'analisi. Questa settimana si è dedicata proprio a questo aspetto con Paolo Zabeo. Vediamo il servizio di Davide Fantozzi. Questa è la cifra di ritenute IRPEF che la Confartigianato ha stimato entrerà nelle casse dell'erario. Quasi 12 miliardi di euro verranno decurtati dai 45,7 miliardi delle tredicesime di dicembre di 33,8 milioni di italiani, tra questi 16 milioni pensionati. La speranza è che parte di quei soldi venga investita per i regali di Natale, presso negozi e bottega artigiane. Molto dipenderà dall'andamento dei contagi e dalle eventuali chiusure. La CGA ha calcolato che le spese per le feste dovrebbero sfiorare i 9 miliardi di euro, come nel 2019, un dato che segnalerebbe una ripresa, seppur ben lontana dai 20 miliardi di spesi prima della crisi del 2008. La contrazione registrata in questi ultimi anni in parte dipende anche dalle consuetudini di compiere acquisti online. Molte persone, infatti, anticipano le compere su grandi piattaforme specializzate, approfittando di offerte come il Black Friday e a rimetterci sono le realtà locali. Secondo le previsioni della CGA, i generi alimentari dovrebbero confermarsi la tipologia di regalo natalizio più diffusa, a seguire giocattoli, dispositivi digitali, libri e abbigliamento. Si profila una crisi, invece, per i settori maggiormente toccati dalla pandemia, come l'acquisto di viaggi, biglietti per spettacoli e concerti. Si spera che a festeggiare la tredicesima siano anche i beneficiari. Una buona parte di questa mensilità, infatti, sarà spesa per pagare la rata del mutuo, le bollette, il saldo del limo della seconda casa, ma è altrettanto spiccabile che la rimanente parte venga utilizzata per rilanciare i consumi. Acquistando i regali natalizi nei piccoli negozi e nelle botteghe artigiane. Siamo stati questa mattina a Manzano ad un convegno organizzato dall'amministrazione comunale in cui si è parlato delle prospettive per la valorizzazione dell'Abbazia di Corno di Rosazzo. Andiamo a vedere il servizio con le interviste realizzate da Francesca Santoro. Un incontro per fare il punto sulle prospettive dell'Abbazia di Rosazzo. In che senso? Abbiamo la fortuna di avere delle colline stupende, delle colline stupende e una abbazia millenaria. Abbiamo la fortuna di avere delle colline che sono state coltivate da molti anni e danno dei prodotti veramente favolosi. Tutto questo noi cercheremo di portarlo a conoscenza sia del Friuli Venezia di Giulia che di tutti per avere un flusso turistico che ci permetta di valorizzare questa zona. Ci sono dei progetti concreti per il futuro? Ci sono molti progetti. Sono ancora in fase embrionale, però abbiamo già delle ciclabili che funzionano, dobbiamo implementarle, cercare di valorizzarle ancora di più e dopo ci sono in prospettiva dei gemellaggi anche fuori regione per incentivare il turismo in Abbazia e nel circondario. Non solo l'Abbazia ma il compendio di Rosazzo è una zona sicuramente splendida, è una zona da valorizzare. Ha lo scopo dell'incontro di oggi che prende lo spunto da un'analisi che l'amministrazione ha commissionato sul patrimonio edilizio in abbandono e ha la finalità appunto di perseguire, di verificare se vi siano delle possibilità di valorizzazione che vadano oltre la destinazione agricola e sicuramente non possono che avere una vocazione dal punto di vista turistico. Noi ci siamo confrontati con la Regione, sarà oggi l'occasione con l'assessore Bini di fare il punto sulla situazione e quindi credo che non possa che essere d'accordo su questo. Andiamo avanti adesso con lo sport. Serie A si torna in campo, vediamo il quadro delle partite del turno che inizia quest'oggi con Atalanta-Spezia prevista alle ore 15 mentre alle 18 si affrontano Lazio e Juventus e alle 20.45 Fiorentina-Milan nella giornata di domani invece le altre partite alle 12.30 Sassuolo-Cagliari alle 15 Bologna-Venezia-Salernitana-Sandoria alle 18 Inter-Napoli alle 20.45 Genoa-Roma mentre dopo domani alle ore 18.30 è la Sverona-Empoli e alle 20.45 Torino-Udinese. La classifica, rapidamente, vediamo con quale situazione si riparte dopo la sosta con Napoli e Milan appaiate in testa con uno sconto diretto importante, quello dell'Inter che ospiterà il Napoli e con il Milan che va a giocare contro la Fiorentina altra partita molto importante di grande interesse anche Lazio-Juventus come abbiamo visto l'Udinese va a giocare contro il Torino le due squadre sono appaiate insieme al Sassuolo a quota 14. Vediamo il servizio di Alessandro Surza con le ultimissime in casa bianconera dove peraltro si registrano ottimi numeri alla chiusura della campagna abbonamenti Si è conclusa ieri la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2021-2022 dell'Udinese Calcio una campagna tipica per le modalità con le quali è stata costruita visto che è stata lanciata stagione in corso ma una campagna che si è rivelata assolutamente eccezionale per la risposta che i tifosi bianconeri ancora una volta hanno dato al club nonostante tutte le problematiche e le difficoltà del periodo attuale la campagna abbonamenti ha raggiunto quota 8.079 tessere un numero impensabile di questi tempi i tifosi bianconeri hanno voluto esserci per l'ennesima volta per non lasciare da sola la squadra è stato un grande successo anche per le tariffe agevolate da quella family fino a quelle dedicate a studenti universitari e sportivi del Friuli Venezia Giulia e questo risultato è stato commentato anche dalla direttore generale dell'udinese calcio Franco Collavino che ha voluto sottolineare come questo risultato sia ancora più straordinario sarà portato appunto al momento che tutti noi stiamo vivendo e lo stesso direttore poi ha ringraziato di cuore lo zoccolo duro degli storici abbonati bianconeri definendo questa ondata di passione come una nuova spinta per raggiungere ancora tanti traguardi passando invece al campo anche ieri la squadra si è allenata con grande intensità con Gotti che ha avuto un'ulteriore conferma sulla bontà delle condizioni fisiche di Pussetto Arslan e Samir che dopo i rispettivi acciacchi sono assolutamente recuperati e pronti per essere a disposizione per lunedì l'unico out è Larsen che ha accusato un risentimento muscolare e non partirà per il Piemonte con l'udinese che chiuderà il tredicesimo turno di Serie A nel posticipo contro il Torino di Ivan Juric e adesso andiamo invece in casa Nero Verde il Pordenone che è chiamato a successo oggi contro Lascoli per cominciare a risollevare la classifica il quadro della Serie B è questo come potete vedere il Pordenone gioca oggi alle ore 14 contro Lascoli oggi alla stessa ora giocano anche Fosinone, Lecce, Spada, Alessandria e Ternana Cittadella mentre alle 16.15 Perugia Crotonia alle 18.30 Vicenza Brescia alle 14 di domani Parma Cosenza e Regina Cremonese alle 16.15 Monzacomo sempre domani e sempre domani chiude il quadro di questa tredicesima giornata Pisa Benevento alle 20.30 facciamo il punto in casa dei Ramarri ancora con Alessandro Surza Pordenone che è stato interessato purtroppo anche da un caso di positività al Covid-19 Match day per il Pordenone che oggi alle ore 14 torna in campo dopo la sosta per affrontare allo stadio Teghiel di Lignano Lascoli di Mister Sottil una squadra difficile da affrontare ma soprattutto una squadra che è quinta per punti conquistati nell'anno solare in Serie B da quando in panchina siede l'ex difensore dell'Udinese partita quindi difficile che sia ancora più complicata ieri con la notizia del caso di positività al Covid-19 riscontrato in casa Pordenone il membro del gruppo squadra è stato immediatamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali e la società d'intesa con le autorità sanitarie ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo FIGC una notizia però che comunque non ci voleva per i Ramarri con Tedino che adesso è alle prese con un problema in più sì in più perché il tecnico doveva già fare i conti con i problemi legati all'infermeria con Misuraka, Mensa e Butic ancora out per infortunio senza dimenticare poi che mancherà anche Elkau e Kibi squalificato dovrebbero partire dal primo minuto invece i recuperati Zaju e Falasco con Pellegrini e Cianovski che sono pronti eventualmente per sostituirli e quindi contro Laskoli in difesa davanti a Perisan dovrebbero agire Valietti Camponese e Barison con appunto Falasco in mezzo ci sarà Pasa in cabina di regia con Petricione Mezzala e uno tra Zammarini e Magnino a completare il reparto davanti Folo Russo e Cambiaghi ai lati dell'ex attaccante del Cittadella C'è anche la primavera oggi in diretta e in esclusiva trasmetteremo il match tra Udinese e Brescia dall'ore 14 e 30 telecronaca di Alessandro Sforza vediamo il programma di questa giornata che è la numero 9 Cittadella Pordenone si è già giocata con il Pordenone che ha vinto in trasferta 3 a 1 tutte le altre gare sono Monza-Alessandria Reggiana-Vicenza Udinese-Brescia Venezia-Parma Virtus-Sentella-Como andiamo a vedere la classifica parlando di virus in continuazione Virtus è diventato virus mi chiediamo chiediamo scusa andiamo sulla classifica il Parma è in testa l'Udinese e il Brescia sono appagati a quota 17 la prossima settimana ci sarà anche il match d'alta classifica tra Udinese e Parma con l'Udinese che andrà a giocare in Emilia ed anche in quel caso ne saremo naturalmente in diretta come facciamo sempre per le gare della nostra squadra bianconera e di recente abbiamo intensificato anche la produzione in diretta delle gare delle altre squadre giovanili l'Under 16 l'Under 17 che vedremo domani in diretta alle 10.30 e alle 15 due partite in diretta per i nostri ragazzi l'Under 17 contro il Cagliari l'Under 16 contro l'Atalanta rispettivamente alle 10.30 e alle 15 tutto in diretta in esclusiva su Udinese TV chiudiamo questo telegiornale mostrandovi i programmi principali di oggi vi abbiamo già detto della primavera vediamo il quadro completo la primavera alle 14.30 prima per chi vorrà ci sarà Inside Academy che si occupa delle giovanili delle società affiliate all'Udinese Calcio in tutta Italia e poi avremo il Bar G già alle 17.30 tu per tu con la storia l'intervista di Guido Gomirato a Bruno Pizzul e poi A Good Marriage è il film di questa sera alle ore 21 le grandi esclusive dei film di Udinese TV che proseguono ogni sabato alle ore 21 ecco qui anche la grafica che riassume gli appuntamenti principali di oggi vi lascio alle previsioni del meteo vi anticipo che è bel tempo ma ve ne sarete accorti semplicemente mettendo la testa fuori dalla finestra o dalla porta di casa vostra Trebi Medio ci conferma che oggi sarà una bella giornata arrivederci a tutti appuntamento alla prossima edizione del telegiornale Ben trovati agli amici di Udinese TV è la previsione per questa giornata di sabato sul Friuli Venezia Giulia ritroveremo un campo di alta pressione una tregua anticiclonica con il bel tempo un po' ovunque ampia apertura del cielo sole protagonista anche in montagna al mattino solo in pianura qualche foschia locale e banco nebbioso ma in dissolvimento durante il pomeriggio andiamo al dettaglio una giornata di bel tempo per Pordenone e Udine con temperature del pomeriggio prossime ai 15 gradi un po' freddo solo di notte anche Gorizia e Trieste vivranno condizioni di bel tempo solo qualche foschia densa al mattino ma durante il pomeriggio delle schiarite anche ampie e clima piacevole domenica invece nuvolosità in aumento nubi basse in pianura ma nuvolosità che poi durante la serata guadagnerà strada anche sulle Alpi Giulie e Carniche dettagli maggiori li trovate come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo grazie a tutti Grazie a tutti.